Inferno canto secondo Donna è gentil, nel ciel che si compiange, di questo impedimento vi ottimando, sicché duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse, ora ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse, e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele, disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, cusci per te della volgare schiera, non odi tu la pietà del tuo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana, onde il mar non ha vanto. Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro, né a fuggir lor danno, com' io, dopo cotà parole fatte, venni qua giù, del mio beato scanno, fidandomi nel tuo parlar onesto, con ora te e quei cudito l'anno. A parlare è Beatrice. Sta raccontando, sta raccontando che c'è una donna gentile nel cielo, e questa è una perifrasi per nominare Maria, che però è innominabile all'interno dell'inferno. Questa donna gentile nel cielo vede Dante in pericolo nella selva oscura, a rischio di vita. E cosa fa? Chiama Lucia. E Lucia, appunto nemica di ciascun crudele, si muove. E muovendosi va da Beatrice, e Beatrice è seduta vicino l'antica Rachele. E a quel punto Beatrice si muove, e dove va? Scende nel limbo a muovere Vergiglia. La salvezza, il principio della salvezza è un principio in movimento, è un principio dinamico, non è un principio statico. Ma siamo in paradiso, questa è la cosa che colpisce. Inferno, canto secondo, siamo in paradiso. Un magnifico prologo in cielo. L'inferno inizia in paradiso. Questo è importante. La luce di Dio è penetrante fin dal canto primo. Dal canto primo dove c'era tempera dal principio del mattino, dove c'era il sole. Il sole che si muove con le stelle, con l'amor divino, che muove le cose belle. Il sole, il sole archetipico, il sole appollineo, il sole divino. Dante è un eroe eliaco, un eroe solare, un eroe primaverile. Che deve attraversare il ghiaccio infernale, invernale, per arrivare comunque poi a vedere Dio in fasciato di luce. Ma tutto è già qua. Inferno, canto secondo. E tutto è già qua, ma è tutto è già qua nella testa di Dante. Perché queste cose qua, dove si trovano? Dove si trova la Vergine Maria? Dove si trova Lucia? Dove si trova Beatrice? Beatrice seduta vicino a Rachele. Ma dove siamo? Noi, per avere la risposta di queste posizioni, di questo spazio, dovremmo aspettare fino al trentaduesimo canto del Paraviso. Il canto secondo dell'inferno, il canto secondo della Commedia, corrisponde specularmente al penultimo canto della Commedia, secondo e penultimo, quasi che ci fosse al centro una linea e avessimo una simmetria e piegassimo il foglio a metà. Dante ritroveremo appunto nel canto trentaduesimo e rivedremo Beatrice seduta vicino a Rachele e vedremo Santa Lucia e vedremo la Vergine Maria e capiremo dove sono tutte queste persone. Tutte queste anime Beate. Ma Dante questo lo aveva già in mente, nel canto secondo dell'inferno. Molti sostengono che Dante non avesse così chiare le idee, che il poema, la Commedia è un work in progress in cui in qualche maniera Dante impara la Commedia scrivendolo. Ci sono dantisti che sono su queste posizioni. Maglio Pastore Stocchi, Emilio Pasquini, che sono dantisti illustri e autorevoli. Io non credo, e anche questi dettagli ci fanno capire, che la struttura era una struttura chiara, definita. Poi, per carità, ci possono essere delle cose mobili all'interno degli elementi mobili durante, dentro la Commedia, perché durante la vita di Dante accadevano delle situazioni storiche. Se uno ci mette vent'anni a scrivere un poema, è ovvio che alcune cose legate al contingente subiscono una variazione. Basta solo pensare come cambia da inferno a paradiso l'idea che Dante ha degli scaligeri. non è un'idea fissa. Ci sono questi elementi mobili, che sono gli elementi legati appunto a dei papi che muoiono, a degli imperatori che muoiono, a delle fiducia che Dante aveva che vengono deluse. Quindi c'è un movimento. Ma la struttura, anche nei dettagli, è una struttura chiara in Dante fin dall'inizio. Ma a Dante è chiaro fin dall'inizio che questa è una Commedia. La materia fetida infernale inizia in paradiso, affonda le sue radici nel cielo. La grande staffetta salvifica, questo grandissimo movimento, inizia in cielo per volontà della Vergine Maria e Dante è illuminato dal sole e protetto da tre donne benedette. Gli dirà Virgilio perché ardire franchezza non hai poscia che tai tre donne benedette curam di te nella corte del cielo, una bellissima immagine, la corte del cielo dove queste tre donne, dove la regina e le sue vassalle in qualche maniera si prendono cura di Dante. Nell'inferno c'è la luce di Dio.